Il gruppo della serata, i Nomadi con la canzone, ma noi no. Nomadi! Ma noi, ma noi, ma noi, occhi chiusi i guai, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti a quello che si vede, a quello che si sente. Ma noi, ma noi, ma noi, no, buoni come il pane, l'usinghe e vanità, l'usinghe e vanità, no, non solo una realtà, no, non solo una realtà. Bambini impararà, l'accede, studenti impararà, impararà, ragazzi, ragazze, sognare, e da grandi impararà, subire, subire. Ma noi, ma noi, ma noi, ma noi, no, buoni come il pane, Ma cattivi come un pane, cattivi come un pane, se gli frega il nostro pane, se gli frega il nostro pane. Ma noi, ma noi, ma noi, ma noi, no, bocca chiusa mai, miserie e ambiguità, miserie e ambiguità, no, non sono una realtà, no, non sono una realtà. Soldati imparare a sparare, studenti imparare a mangiare, uomini, donne, sognare, e da vecchi imparare a morire, morire, ma noi, no, eh. Ma noi, ma noi, ma noi, ma noi, no, bocca chiusa mai, ci viene di pensare, ci viene di pensare, qualche volta anche cantare, Qualche volta anche cantare. Scusa, la settimana scorsa, avevi un terribile mal di testa, oggi ho detto come va, mi hai detto, vado male pure stasera, ma che succede? No, mi sta, mi sta passando, probabilmente, boh, qualcosa, il cielo ce l'ha con me. Secondo me è lo stress, ragazzi, allora voi nomadi di nome e di fatto, mi hanno detto che voi siete il gruppo, ma sicuramente gli artisti che fanno più serate durante l'anno, è vero? Sì, e la Calabria lo sa abbastanza bene, secondo me. Infatti, forse, pensandoci bene, quello che manca al mio fisico è un po' di mare e di sole calabrese, basta. Ma, io sono convinta che qualcuno è disposto ad ospitarvi per qualche giorno, ragazzi, prendetevi una pausa, no? Cioè, vediamo, non ci è chiesto. C'è qualcuno che può ospitare il gruppo dei nomadi? Eh, guarda quanti, vengo anch'io, eh, ci prendete in blocco tutti. Mangiamo molto, eh, siamo di molta spesa. Ma loro sono generosissimi. Allora, vediamo subito il risultato, scusate, non ci arriva, ecco, grazie Monica, 87 voti, te l'ho detto che era un bel verdetto. Allora, grazie ovviamente ai nomadi e noi ci diamo appuntamento a tra un attimo, un piccolo spazio pubblicitario. A presto. A parte, notiamo che c'è Augusto, vedete che sembra il re, vedete quelli suoi adepti. Quindi, Augusto, so che l'anno prossimo festeggiate il trentennale dei nomadi, è vero? Sì, tu sei il primo invitato, quindi. Si mangia? Si mangia, si beve, si... E per il trentennale dei nomadi si taglierà la barba. Ragazzi, scusate, notate quest'altro personaggio...